Un cordiale saluto, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati cari telespettatori. Oggi è il 13 di maggio 2020, siamo in diretta a 7.47 sul canale 17 di Fano TV per seguire la rassegna stampa, un'occhiata ai giornali, un commento alla stampa del giorno con i due giornali che noi prendiamo come riferimento, ovviamente due giornali che hanno gli inserti locali della provincia di Pesorubino a cui ci rivolgiamo particolarmente e sono il Corriere Adriatico ed il resto del Carlino. Oggi è la Beata Vergine Maria di Fatima, quindi andiamo in Portogallo, una giornata importante per i credenti e il sole è sorto alle 5.43 e tramonterà alle 20.25. Il tempo, per quanto riguarda il tempo, la protezione civile delle marche, per la giornata di oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento quelle massime. I venti saranno ancora di forte intensità, di burrasca soprattutto nella parte dell'entroterra, moderato invece lungo la costa. Per domani più o meno la situazione è la stessa, ancora un po' di vento, venti di intensità di burrasca soprattutto in montagna. Venerdì ancora cielo sereno poco ruvoloso, con venti di burrasca forte o tempesta addirittura sempre in montagna. Aumento dell'instabilità nella giornata di sabato, con ritorno a condizioni tempo stabile per la giornata di domenica. Allora, stiamo lavorando sulla questione, stiamo seguendo la questione dei protocolli, questi protocolli che si stanno sfornando sia a livello regionale che a livello centrale a Roma per la ripartenza del 2018. Ieri però è arrivata una doccia fredda dall'Inail perché il protocollo, quello realizzato a Roma, prevede un qualcosa che fa storcere il naso a tanti, soprattutto per quanto riguarda le spiagge. Le Marche avevano deciso come misure standard di sicurezza 10 metri quadri, 10,5 per l'esattezza, ad ombrellone, parliamo quindi di spiaggia. In realtà poi da Roma è arrivata la notizia che il protocollo prevede non più 10 ma addirittura 20 metri quadrati ad ombrellone. Quindi capirete da soli che la questione si complica notevolmente e quindi non si sa. Anche qui nell'incertezza, tutto il settore è e vive nell'incertezza e dunque bisognerà attendere e vedere che cosa, se di nuovo ci sarà questo braccio di ferro tra la Regione e Roma oppure bisognerà ascoltare quello che dice il Comitato Tecnico Scientifico appunto nazionale. Ma c'è anche la questione di Silvia Romano, la cooperante milanese che lavorava per la ONLUS fanese Africa Milele che sta tenendo banco. I giornalisti stanno appostati davanti alla casa dell'associazione fanese per cercare di prendere qualche parola, di stirpare, di portare via qualche parola dalla bocca della sua presidente che si è barricata in casa con la famiglia e quindi anche di questo si parla questa mattina sui giornali. E allora andiamo subito sul Corriere. Spiagge il caso Ombrelloni, questo è il titolo d'apertura. Il protocollo INAIL alza a 20 metri quadrati la distanza, gli stabilimenti sotto shock, problemi anche per i ristoranti. L'ira della Regione, burocrati, impensabile accettare scelte che impediranno l'apertura di stabilimenti al mare. Centropagina, le mascherine sono sparite di nuovo, un'altalena non solo di prezzi. Lilian e la ONLUS di Silvia Romano, la lista di accuse alla fondatrice. Il resto del Carlino apre con mare, bar e ristoranti, tutte le regole. La guida di Confcommercio che spiega in dettaglio come le varie attività produttive ripartiranno lunedì. Centropagina invece, Africa, Milele, quanti misteri. La presidente della ONLUS di Silvia Romano barricata in casa, lasciateci vivere. Le pagine interne, fuga dagli ospedali, 200 ricoveri in meno dall'inizio di maggio. Nei reparti restano 254 pazienti Covid, meno 51 in un giorno. Solo 24 sono ricoverate in terapia intensiva. Ieri altri 25 casi positivi, aumentano i doppi tamponi. Ascoli è fermo senza contagi. Intanto l'ospedale di Civitanova servirà da scorta per l'emergenza. Ancora due vittime, il totale sale a 971, l'età media è di 80 anni. Ok del comitato etico alla terapia al plasma si può partire già da oggi. Le riserve superate, è stato approvato all'unanimità il protocollo per la sperimentazione. Dunque già dalla mezzanotte sono cominciati ad arrivare i messaggini, gli sms, whatsapp. Nelle integrazioni però si è precisato che la sperimentazione non coinvolgerà minorenni, né donatori né riceventi, ma solo persone comprese tra i 18 e i 60 anni. Il semaforo verde, come dicevo, ha consentito di mettere in moto la macchina organizzativa già allo scoccare della mezzanotte. Ora verranno gestite le prime donazioni di plasma iperimmune da parte di un centinaio di volontari che hanno sconfitto il Covid, ma per le infusioni nei pazienti non ancora arrivati allo stadio più avanzato della malattia occorrerà attendere i test sierologici e molecolari per escludere contaminazioni e verificare che nel plasma sia contenuto un adeguato titolo di anticorpi neutralizzanti, gli unici in grado di annientare il coronavirus. Stretta shock dell'INA, per ogni ombrellone ora 20 metri quadrati, Giro di vite nelle linee guida per la sicurezza in stabilimenti e ristoranti. L'assessore regionale Pieroni dice misure inaccettabili, così non si riapre. In questo grafico si può fare la differenza tra quello che aveva stabilito il protocollo della Regione e quello dell'INAIL. Sono differenze in alcuni casi importanti che comunque rendono certamente la vita più difficile agli operatori balneari e anche ai ristoranti. Per quanto riguarda i ristoranti, vedete il protocollo dell'INAIL prevede due metri di distanza tra un tavolo e l'altro, mentre quello della Regione un metro. Il ricambio di aria naturale e ventilazione dei locali, quello dell'INAIL, mentre la Regione, nel caso di due o più persone tra loro non conviventi, da garantire distanze al tavolo, in alternativa dispositivi di protezione tipo plexiglass. Quattro metri quadrati invece il protocollo INAIL, spazio da calcolare per ciascun cliente in alternative barriere divisorie. Ora, capite, io mi metto nei panni di quei poveri ristoratori che devono innanzitutto affrontare tutta questa serie di spese che chiaramente sono importanti. Soltanto un flacone così di igienizzante, l'ho visto io, mi pare se fossero 5 litri, 10 litri, non mi ricordo, qualcosa così, 59 euro. Quindi immaginate voi quanto ne andrà via. Ma poi, a parte che bisognerà adesso capire anche quanta clientela è disposta ad andare al ristorante in queste condizioni. Stavo ragionando ieri, pensate soltanto a una persona che mangia, una coppia che mangia seduta al tavolo e si sta magari gustando un piatto o una pizza, e di fianco l'operatore che spruzza quel igienizzante che comunque ha un odore forte anche di alcol, quindi mangiare con tutto questo odore di alcol attorno diventa davvero una cosa improponibile. Diverso è, magari forse qualche cosa può essere diverso all'esterno, quando si andrà magari a mangiare una pizza fuori all'esterno, ma comunque questi odori ci saranno e saranno molto fastidiosi. Quindi non lo so, è tutto da capire. Intanto di certo è che andremo a votare per i nostri nuovi governanti ad ottobre, anche qui con l'incognita, con tutte le incognite del caso. Comunque si è deciso, niente voto a luglio, in piena estate, piace l'autunno, election day voto a ottobre, mozione approvata all'unanimità, rischi per la salute e il livello di partecipazione. Poi i sindaci che scrivono a Conte nel decreto zero risorse per i comuni, lettera al Premier, a rischio, tutti i servizi per il sociale. Ed eccole qua le mascherine. Apriamo queste due, scusate, queste due pagine, così ve le faccio vedere insieme perché sono due pagine che vanno messe insieme. Eccole, ci siamo di nuovo, sono introvabili. Non so dove, adesso per esempio dove sono stato ieri, ne ho trovate, costavano e costano tanto, ma comunque ci sono quelle a 50 centesimi neanche l'ombra, ma comunque a 61 centesimi dovrebbe esserci qualche cosa. Intanto, vabbè, il titolo, la pagina del Corriere Adriatico di oggi sono introvabili. I dispositivi a prezzo carmierato, quello a 50 centesimi più IVA, arrivano nelle Marche con il contagocce e vengono vendute in pochi minuti. Nonostante gli impegni del commissario per l'emergenza, le famose chirurgiche sono una rarità. Ci sono invece le FFP2, ma il costo, e questa una ne ho comprata ieri, in effetti sono 6 euro. 6 euro è il costo di queste mascherine. Troveremo mai pace? Io penso che sarà difficile. Intanto, da quello che si capisce da questi articoli, e vince che, per esempio, a Macerata sono stati svuotati anche i depositi. Ancona, molte sono state vendute sotto costo, ma lo Stato dice ci rimborserà. Poi Ascoli, Benigni, che dice dell'ordine dei farmacisti, nessuno pensi che si voglia boicottare il prezzo standard. Mentre a Pesaro, Pieri di Aspes, nelle farmacie comunali, ancora le mascherine si trovano. Intanto, scusate, andiamo a... Sì, a questo punto apriamo la pagina dedicata a Silvia Romano, il sequestro romano. Allora, siamo sul Corriere Adriatico, due pagine dedicate a questa vicenda, che ci tocca, ripeto, da vicino, perché comunque la sede si parla di Fano, si continua a parlare di Fano, perché la sede, tra l'altro, di questa associazione, che adesso è finita nell'occhio del ciclone, in molti stanno puntando il dito contro questa organizzazione, la sede è a Fano. Una tempesta, un uragano, che si abbatte all'improvviso sulla casa di Africa Milele, nel villaggio di Chakama, nel Kenya, rurale, a 80 chilometri da Malindi, proprio quando il tragico fortunale, annunciato da tuoni e fulmini, che aveva fatto tenere il cuore in gora per 18 mesi, con la liberazione di Silvia Romano, sembrava essersi dileguato per sempre. E allora, inizia così l'articolo che riguarda appunto il sequestro. I genitori della giovane cooperante ora chiedono una verifica delle condizioni di protezione in quella missione in Kenya. La Procura potrebbe aprire un fascicolo sui protocolli applicati. E ci sono domande, che sono domande che ci si fa, insomma, tranquillamente, che ci siamo fatti tutti quanti. se questa ragazza era al sicuro, era garantita la sua sicurezza, perché era da sola. E poi dopo, vabbè, aveva un'assicurazione, qual era il suo ruolo di responsabile, era stata fatta una procedura corretta per la preparazione. È chiaro che poi quando arrivano, succedono queste cose così, poi si va a trovare il pelo nell'uovo, quindi si va a vedere persino se aveva le scarpe adatte o le ciabatte in fradito, piuttosto che quella. Perché poi, quando è così, si finisce nel tritacarne e dunque si va a contare tutto quanto. È bufera comunque, questo è così, è la realtà. È bufera su questa Ollus per la sicurezza di Silvia. Ecco tutte le accuse. Il senatore Cangini, contro l'associazione, dice zona pericolosa e non aveva l'assicurazione. Che cosa dice Africa Milele a proposito dell'assicurazione? Non c'è stato il tempo per farla perché è dovuta partire subito. Una grande amarezza, intanto dice la responsabile, Lilian Sora. La vedete in questa foto, con la mascherina scattata, come dice e scrive il giornale, nella giornata di domenica pomeriggio. Qui invece il sorriso e gli occhi. Guardate, non so se voi riuscite a ricordare, bisognerebbe metterle in contraposizione, metterne una a fianco all'altra. Questa è Silvia Romano, felice e sorridente. Guardate gli occhi, accesi, luminosi, belli, un bellissimo sorriso. E guardate, se avete una foto di Silvia oggi, o Aiscia oggi, ecco, fate la differenza, vedete voi, già dagli occhi, gli occhi parlano, sono lo specchio dell'anima, si capisce già che qualcosa in questi 18 mesi è successo, è qualcosa di davvero terribile. Una grande amarezza invece, dicevo, Lilian si chiude in casa. La Presidente non commenta le dichiarazioni della famiglia, della volontaria. Va detto che la famiglia da un po' aveva interrotto, stando a quello che scrivono i giornali, appunto, avevano interrotto i rapporti con l'associazione. I genitori chiedono che la procura indaghi su questa Ollus, mentre naturalmente la fondatrice di questa associazione ha più volte ribadito che cosa è successo in quei giorni, dal giorno del rapimento ovviamente tutta l'attività di Africa Milele con tutti i volontari a Chacama è interrotta, ma è continuato anche il sostegno a distanza al villaggio, in particolare per l'emergenza sanitaria del coronavirus, arrivata anche questa landa africana, l'aiuto alla sartoria del villaggio che si è messa a produrre mascherine. Quindi in qualche modo anche durante il coronavirus, durante questa emergenza c'è stato questo contatto, e si sono messi a lavorare, a cucire queste mascherine. E qui ci sono due pagine sul Corriere Adriatico, mentre il resto del Carlino pubblica invece queste altre fotografie, guardate, intanto ecco Silvia, vedete come sono diversi gli occhi, e i giornalisti che sono invece di fronte all'ingresso della casa, siamo in località Torno, a Fano, giornalisti che sono lì in attesa di poter parlare, di poter carpire qualche informazione, qualche dichiarazione da parte della fondatrice. La Presidente non esce, la 19enne, la figlia in lacrime, i cani che abbaiano contro i nostri giornalisti, arriva la Digos, arriva la polizia. E Lilansora che dice, io quello che avevo da dire, l'ho detto, rassegnatevi, mentre la figlia, la ragazza, andate via, ci siamo anche io e la mia sorellina. Certamente immaginiamo non sono giorni semplici, non sono situazioni piacevoli e di conseguenza insomma, che dire, che dire. Un'associazione, scusate, fatta in casa, nata nel 2012, l'altro trafiletto che trovate sulla pagina di Fano del resto del Carlino. Maltrattavano gli anziani, due denunciate, un'operatrice è stata già allontanata dal lavoro di Alcante di Montevecchio, le indagini in corso dai carabinieri e della magistratura. Alcuni degenti coinvolti sono però morti di recente per cause naturali e questa è una brutta, bruttissima storia che viene raccontata anche da tutti i due giornali. Ovviamente si tratta di una operatrice socio-sanitaria di 62 anni, dipendente della residenza protetta Alcante di Montevecchio, che ieri è stata sospesa dal servizio per sei mesi in attesa di giudizio e allontanata dalla struttura. Assieme a lei però, anche un'altra dipendente è stata denunciata per maltrattamento. A segnalare i presunti abusi poi accertati dalle successive indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Fano sono stati gli stessi colleghi delle due donne che sono rabbrividiti di fronte ad un episodio al quale erano stati testimoni involontari e non visti. E quindi da lì poi è scattata tutta l'indagine anche con delle telecamere nascoste e quant'altro. Poi invece sempre sulla pagina di Fano del Carlino ancora la cronaca scassinavano le auto arrestati due rom. La coppia è stata fermata nel corso di un'operazione avvenuta in provincia di Vercelli con i carabinieri di Osimo. I quattro colpi che avevano realizzato in provincia di Peso Urbino erano stati messi a segno tutti quanti a Fano. A Fano erano arrivati il 5 agosto del 2019 qui avevano razziato prima l'auto di una 59enne in sosta sul lungomare dalla quale avevano asportato un navigatore satellitare e 220 euro in contanti. Poi quella di una 33enne parcheggiata di fronte allo sport park da cui avevano sottratto la borsa eccetera eccetera poi anche dei soldi e poi altre vittime di un 23enne di una 23enne e di una 27enne. Per quanto riguarda invece il Corriere Adriatico la pagina dove si occupa dei maltrattamenti al canto di Montevecchio è quella della Valle del Metauro. Un'operatrice sospesa la collega che finisce nei guai vessazioni e violenze fisiche sugli anziani ospiti della casa di riposo i carabinieri ricostruiscono 16 casi 16 episodi contestati. Questa dipendente di 62 anni fanese è stata adesso sospesa come dicevamo denunciata invece in concorso anche una collega sempre dello stesso repatto però più giovane di lei. La reazione segnalata dai colleghi subito subito provvedimenti immediati provvedimenti disciplinari nei confronti dell'operatrice sulla quale si sono addensati i primi sospetti su possibili maltrattamenti agli ospiti anziani della residenza protetta fanese i suoi comportamenti sono stati segnalati dagli altri colleghi spiega in una nota la stessa Onlus Cante di Montevecchio che gestisce la struttura e l'intervento specifica inoltre che l'indicazione del personale subito comunicata ai carabinieri risale ai tempi antecedenti l'emergenza Covid-19 e torniamo a parlare di Covid-19 allora rebus stagionali tra lavoro in nero tra lavoro nero e paghe da fame il personale estivo rischia di essere travolto dalle incognite della ripartenza i sindacati temono ripercussioni occupazionali chi sono i più penalizzati turismo parla il presidente di APA di Pesaro Fabrizio Oliva il settore perderà almeno 5.000 occupati ma negli hotel aperti occorreranno più persone per la sanificazione occhio alle regole le spiagge libere bisogna meritarle Biancani per l'equità bocciata l'ipotesi di affidarle ai bagni confinanti distanziamento tra persone e attrezzature occorre usare ovviamente il buonsenso e sulle spiagge libere adesso poi ci si ritornerà perché non è ancora chiara la questione i baristi invece armati di metro a caccia del posto in più in vista di lunedì prossimo gli esercenti alle prese con il rompicapo delle distanze occorrerà sfruttare soprattutto lo spazio esterno il sindaco annuncia controlli e poi il lavoro è rivoluzionato ma i clienti ci aspettano parlano i parrucchieri gli estetisti che scalpitano per riaprire i battenti dei loro negozi abbiamo speso tanti soldi per adeguarci eppure guadagneremo la metà aprire o non aprire i dubbi dei ristoratori restano zone grigie dicono diversi gestori hanno già detto che lunedì non faranno in tempo a riaprire bene i tablet per i menu chieste visiere trasparenti invece per i carabinieri intanto la fotografia si riferisce ad una protesta di due settimane fa in piazza del popolo a Pesaro con la consegna delle chiavi simboliche al sindaco percorso sierologico che fare quando il test rileva una positività persone asintomatiche che si scoprono affette potranno usufruire del nuovo servizio Biancani grazie a questo accordo è più semplice l'accesso all'esame molecolare per quanto riguarda invece i dipendenti i costi restano a casa scusate a carico del datore di lavoro Don Orlando in ospedale ma negativo al tampone lo storico parroco Montechiese guarito dal coronavirus è stato di nuovo ricoverato però attenzione sono escluse in questo momento ricadute quindi non parliamo di ricadute perché altrimenti si fa confusione e si rigenera panico positivo invece al secondo controllo Don Valerio Rastelli ecco queste sono le notizie che arrivano da Vallefoglia Don Orlando è stato nuovamente ricoverato dicevamo al San Salvatore di Pesaro per uno stato febbrile affaticamento respiratorio pressioni basse altri sintomi la notizia è arrivata direttamente dalla cura il parroco sta facendo questi ulteriori accertamenti ma è scongiurata al momento qualsiasi ricaduta da coronavirus come invece accaduto a altri nove pazienti residenti tra Lodi e Cremona che una volta negativizzati e poi dimessi sono poi tornati positivi e quindi ricoverati seppur con forme più lievi del virus tsunami contagi in corso mentre ricci minimizzava qui c'è la dichiarazione l'intervista ad Elisabetta Foschi assessore alla sanità del comune di Urbino che dopo lo scontro in consiglio comunale di ieri a Pesaro tra il sindaco Matteo Ricci e il consigliere di Fratelli d'Italia Baiocchi rincara la dose e dice l'intera provincia ha pagato il prezzo dei suoi errori fermare tutto subito avrebbe ridotto l'epidemia evitando il collasso dell'ospedale di Pesaro sono dichiarazioni forti queste che pesano certamente pesano tanto e vengono rincarate dopo quello che aveva detto Baiocchi invece in consiglio comunale anche se da casa perché c'era la videoconferenza oggi rincarra la dose come dicevo l'assessore della sanità del comune di Urbino che dice mentre l'ospedale di Pesaro si riempiva di pazienti già in gravissime condizioni il sindaco Ricci minimizzava gli elementi per avere il senno allora c'erano già tutti ed erano quelli valutati dal sindaco di Urbino Gambini e dal governatore Ceriscioli che chiedevano invece al contrario di Ricci di chiudere ma allora si bollarono come strumentalizzazioni politiche le prese di posizione di Gambini e come capricci antigovernativi quelli di Ceriscioli verissimo è stato verissimo questa è una cosa è una cattiva valutazione che avevo fatto anche io personalmente lo ricordo e chiedo scusa per questo l'ho già detto ma lo rifaccio perché sembrava in quel momento che fosse un capriccio di Ceriscioli quello antigovernativo quella volta ancora non aveva fatto un passo di lato Ceriscioli a favore di Mangialardi sembrava quasi sembrava quasi volesse mantenere la sua poltrona sembrava quasi volesse il secondo mandato dal governatore e quindi è stata fatta una valutazione sbagliata e l'avevo fatta anch'io avevo detto anch'io questa cosa in realtà evidentemente Ceriscioli aveva delle informazioni ben precise così come ce l'aveva il sindaco di Urbino Gambini i quali in tempi assolutamente non sospetti eravamo all'inizio all'inizio di questa emergenza quando ancora tutti eravamo beatamente allegri e pensavamo che non ci sfiorasse minimamente in realtà loro andavano con consapevolezza ad affrontare la realtà e quindi a decidere a prendere decisioni che sembravano anche impopolari quella volta e quindi insomma e la Foschi oggi ripercorre questa questa strada il loculo ora si potrà pagare anche a rate siamo a Pesaro approvata la mozione del centro-destra destinata a fasce di popolazione segnalate dai servizi sociali il regolamento sarà modificato ad oggi l'alternativa è chiedere un prestito alla banca di Pesaro che è convenzionata e dunque non tutti possono permettersi di pagare 4.000 euro di loculo al cimitero centrale a maggior ragione se tocca versarli all'unghia cioè uno sopra l'altro infatti stando al regolamento comunale di Pesaro e quello attuale non è possibile rateizzare ma qualcosa si muove a sostegno delle famiglie in difficoltà durante il lunghissimo consiglio comunale di lunedì terminato a lunedì notte l'assemblea ha votato a favore la richiesta del centro-destra appunto i consiglieri Nicola Baiocchi Giulia Marchionni ed Emanuele Gambini di Siamo Pesaro di cambiare il regolamento introdurre la possibilità in casi particolari in quadrati dei servizi sociali di dilazionare la spesa e quindi di dilazionare questi 4.000 euro il caro istinto sempre su questa pagina del Carlino compra il tombino e lo rivende in soli tre mesi ci perde la metà svalutazione record da 3.695 a 1.727 euro l'impressione immediata è di una speculazione da parte di Aspes e del comune percorso sierologico il via test e tamponi rapidi il privato fa l'esame a proprie spese se positivo passa al tampone entro massimo 10 giorni se poi risulta negativo esce dall'isolamento si può stipulare un protocollo con Asur per quanto riguarda le aziende Biancani parla di vantaggio tempi più veloci per esecuzione e naturalmente anche per avere risultati il picco dell'epidemia la polemica dopo la frase della consigliera democratica i medici dicono noi siamo la diga altro che anello debole Mattioli precisa ma una dottoressa sbotta gestivamo a casa i pazienti quando neanche il 118 li soccorreva intanto il contagio cala ancora 15 nuovi casi positivi registrato un altro decesso siamo a quota 513 per quanto riguarda la provincia ovviamente di Pesolo Urbino poi per quanto riguarda la cronaca un tedesco di 78 anni è stato morso da una vipera vicino a casa interviene l'eliambulanza l'uomo ha chiamato la figlia che era in Germania Monaco che ha allertato appunto il 118 ai vigili del fuoco un tedesco che risiede nella zona di Caprazzino di 78 anni che è stato morso da una vipera ieri pomeriggio vicino alla sua abitazione l'uomo abita da tempo in un borgo solitario in un collo in località Montagano comune di Macerata Feltria e ieri ha dato l'allarme dopo che una vipera lo aveva morsicato in un dito all'interno della sua proprietà poco distante dalla casa mentre stava raccogliendo del materiale l'uomo prima ha chiamato la figlia che abita appunto a Monaco di Baviera la quale in qualche modo è riuscita a mettersi in contatto con la centrale operativa del 118 di Pesolo l'ambulanza intanto da Sasso Corvaro con il dottor Michele Nardella a bordo è partita subito ma ha faticato un po' per raggiungere il punto indicato a causa della salita impervia poi a un certo punto si è dovuta fermare ha dovuto chiedere a sua volta l'intervento dei carabinieri Pianti Veneto e dei vigili del fuoco perché erano già impegnati su altri su Urbino insomma con dei fuoristrada alla fine sono arrivati l'uomo era sdraiato a terra in giardino un po' frastornato aveva la pressione bassa a fatica riusciva a spiegarsi anche perché non parlava l'italiano comunque è riuscito in qualche modo a farsi capire e alla fine è stato salvato intanto da Valefoglie infrastrutture e quello studio va ampliato dentro pure Urbino Valefoglie e Pesaro non solo il fanese il sindaco Ucchielli ci riprova e scrive ancora la ministra De Micheli e cerca di favorire la visibilità del suo comune della sua città dal punto di vista strategico e infrastrutturale scrivendo una lettera al ministro dei trasporti Paola appunto De Micheli lo studio di fattibilità per quanto riguarda le infrastrutture sul tratto Pesaro Fano Fossombrone Urbino che in questo tratto chiede di unire anche e appunto Vallefoglia sempre sui giornali la pagina di Urbino iscrizioni in calo parliamo di università dice il rettore Stocchi beh è presto per dire che ci sono un calo di iscrizioni qui all'università però si dice anche fiducioso dipende dal sostegno che verrà dato alle famiglie e sulla tratta Fano Urbino cogliamo l'occasione le liste Londei dopo la riconferma di Accoto sugli investimenti ripartiti maxi lavori per l'ospedale di Pergola interventi diversi con possibili disagi la sindaca Guidarelli fa il punto limitazioni logistiche emerse anche nella riorganizzazione per la fase 2 intanto riapre il circolo tennis San Mondolfo Hellas Club ripartiti i lavori all'ospedale di Pergola così il Carlino le operazioni di efficientamento energetico sono riprese dopo il blocco devuto all'emergenza coronavirus siamo convinti dice l'assessore Graziano Ilari che il nostro nosocomio debba essere preservato al massimo nelle sue funzionalità e poi da Marotta la morte del noto designer mentre giocava a tennis Giuliano De Minicis che aveva 65 anni era sul campo dei tre castelli era un grafico stimatissimo aveva ricoperto molti incarichi nel settore e poi da Senigallia Malore Sciocca anche qui vedete Giuliano De Minicis Malore Sciocca mentre gioca a tennis re del marketing more il re del marketing grafico designer art director ideatore di eventi aveva 64 anni la tragedia a Ponterio di Monterado mentre il party al Covid Hotel tanti auguri alla 203 messaggi e pasticcini fuori dalla porta per il compleanno nell'albergo dei contagiati gli ospiti sono chiusi tutti in una stanza vedete hanno comunque fatto voluto fare gli auguri mettendo tutto su una sedia e lasciando il pensiero diciamo alla festeggiata fuori nella sedia e quindi insomma tanto per dire per non far mancare questo momento di festa in un momento comunque difficile è tutto grazie per averci seguito vi ricordo il nostro numero di telefono che adesso il regio vi fa vedere eccolo qua 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni anche Whatsapp scrivete piuttosto che telefonare è meglio perché ci dà la possibilità a noi di rispondervi con calma senza dover interrompere il nostro lavoro perché è tantissimo e lo stiamo facendo ancora in modalità smart walking questo non dimenticatevelo e poi dopo l'appuntamento di questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a la prima volta